Ciao a tutti ragazzi, sono Dark e sono tornato. Scusate se non ho caricato più video, ma mi si era rotto il computer e ne ho preso uno nuovo con Windows 8 dentro. Comunque, voglio cominciare un nuovo gameplay. Questo gameplay è Drakenshang, un nuovo gioco in terza persona. E... è molto bello, molto molto bello. Io sono questo qui, dove c'è scritto, vedete qua sotto, Dark Avenger 022. Se volete cominciare a giocare, magari mi trovate. Basta che andate, adesso vi faccio vedere. Bene, ok. Andate qui in parte, ci sarà una chat. Andate qui e lo aspettate. Ricerca giocatori, fate. Andate qua a nome utente, mettete il mio nome e schiacciate invio e lui ve lo ricercherà. Così mi arriverà una richiesta, tutte le richieste che mi arriveranno le accetterò. Non pare lagare, adesso vedi che lagga come un maiale in calore. Perché non ci sono nanetti? Vabbè, c'è una mappa, guardate. Se io metto la mappa globale, guardate quant'è. Guardate, guardate quant'è. Io ho sbloccato... Vabbè, io ho questi, sono andato fin qua. Vabbè, comunque. Eccoli qua. Cominciamo ad arrivare. Non li picchiamo. Sono ancora a livello 7. Però, 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 però. Però dai. Me lo lagavo. Sono quasi a livello 8, comunque. Questo è solo un anticipo. Non ci sono più nessuno. Comunque, si può mettere anche i PvP, così combatti... Così si può combattere con, vedete, altri giocatori. Solo che non ve lo consiglio perché perderete. Ci sono giocatori di livello 40 che non li uccidi neanche a mandare, non li giugge su. Poi, vabbè, sbloccate altre cose. Potete comprarvi cose. Fate missioni per... Ah, porcaccia. Avete qua l'inventario. Vedete, questo è l'inventario. Devo ancora sbloccare uno slot qua. E per aumentare vi servono queste qua. Le alter gem. Per aumentare l'inventario. Adesso non so dove cazzo sto andando. Ah, non l'avevo vista questa strada. Per arrivare qua. Va bene. Comunque. Questa è un'anticipazione. Ecco, vedete, ragazzi. Con... Con un computer nuovo che è molto, molto, molto più potente. Più potente di un Mac. Eccoli qua i nanetti stronzi. È più potente di un Mac. Non lagga niente con Camtage. Sull'altro computer, invece, devo registrare con Odeboot o con una Tube Catcher. Ok. Qua sotto abbiamo l'energia. Qua abbiamo i colpi speciali. Questa non serve l'energia. Questo sì. Vedete, se io faccio così... Boom, morto. Ok. Qua abbiamo la vita. 350 su 350. E qui abbiamo l'energia curativa. Facendo missioni, comunque, si aumenta subito di livello. E... Ci possono sbloccare cose nuove. Poi, uccidendo anche i mostri, troverete delle armature, delle spade, elmetti, tutte queste cazzate qui, comunque. E... Vabbè. E comunque, mi scuso ancora, se non ho più... potuto... caricare i video, ma... il computer di merda era partito. Ehm... Comunque. Comunque, adesso li farò... sempre. Comincerò anche Minecraft, che è uscita, vabbè, la nuova versione. Era 1.4, 2.4, non mi ricordo. E... E... Farò una... Ehm... Come posso dire? Un gameplay su... Solo... Come posso dire? Solo sul Minecraft. E... Magari più avanti metterò dentro le mod, o scaricherò la Tech It. Adesso vi faccio vedere che... Vedete, se io vado di qua... Sword di Field, e strocca lì. Guardate. E... Molto, 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 molto difficile, perché i mostri sono di livello alto. Vediamo. Ce ne troviamo. Eccoli qua. Vedete, sono già a livello 7 questi. Però con un colpo di spada noi questi li ammazziamo. Ovviamente... E poi ci sono le streghe che sono molto, molto forti. Le streghe sono molto, molto, forti. Questi comunque ci danno ancora più punti. Le streghe sono molto, molto forti. e stronzi, soprattutto. Eccola qua, la strega. Sono di livello 8, comunque, con la spada potenziata. Vedete. Guardate quanti sono. Guardate, guardate, guardate. Io faccio così. Bam, tutti morti. Comunque adesso morirò, sicuramente. Perché è molto, molto difficile per liberarmi di questi. deficienti. Basta fare così. Comunque, se sopravvivo, o abbiamo aumentato di livello. Aha. Vedete. Qua prendiamo tutte le cose che troviamo per te. Ecco. Io sono venuto subito qua dopo arrivato al livello 2. Aumentiamo. I talenti sono, questi qua si chiamano talenti. Ancora. Vale. Comunque, quando potenzi la spada non è più difficile come prima. Voglio vedere l'elmetto che mi hanno dato. allora 6 e 12. Questa è 6, quindi direi proprio di cambiarla. E mettere quella da 12. Allora, 10, 16, 5, 6, ecco. Ok. Possiamo andare, abbiamo l'armatura molto, molto più forte. Vedete, ci siamo aumentati anche i punti alla vita. a 300. Comunque qui, ragazzi, si passa subito di livello. Magari anche più avanti, più avanti andate, più ancora passate di livello, ma più sarà ancora più difficile. Guardate qua che casino. che caso sono sicuro. Ecco, questo è di livello 10. Due in più di me ce l'ha fatta. però... What? Livello 11? Oh, cos'è sta cosa? Ma morite, stronzi? Eh, vedete, adesso morirò. Capita. Non so che caso ho trovato. Non so cos'è. Ma cos'è sono questi cosi? Ah, quanta gente. Ah, sono morto. Sono morto. Oddio, quelli lì di livello 11 sono morto. Via, 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 via. Eh, sono morto. Vabbè. Adesso qua, aspetta che, un attimo che rinasco, nell'ultima città visitata, perché così non spendo altre gemme, altre gemme, che, ci vuole un casino per trovarle. Ok, guarda l'ultima cosa che mi hanno dato. potenza, niente. Ah, ok. Ah, guardate qua. Oggetto in me, potenza, possiamo potenziali. Questo dobbiamo portare a riparare da il nostro amico potenziamento risorse. Potenziamo la spada, potenze. Ah, costo. Ok. X. Ripara. E ripariamo. Ok. Oh, armature in pelliccia, 21. E questo è 16. Prendiamo questo. E ci prendiamo questo. E ci prendiamo questo. Ok. Uh, vedete? Siamo molto, molto più forti. Ecco, stivali in pelliccia, 6. Stivali, 2. 6. Sono come gli altri. Stoffa, 10 e 5. Abbiamo altre pagine. Abbiamo una fascia da 6 e una fascia da 12. La mia è da 12. E qui abbiamo da 5 e da 2. La mia abbiamo da 5. Ok. Mi chiede livello 15. Va bene. Quindi vediamo se abbiamo sbloccato altre armi. No. Mi parli di no. No. Scudo stretto 50 a quale. Vabbè. Ah, vendiamo questo scudo e ci prendiamo lo scudo stretto. E vendiamo queste due fasce che non ci servono. Questa, diamanti impure. insomma sono slot. denti. Cos'è? Denti. Non ci serve. Vediamo se può servire. Ok. ma i denti non ci servivano, ragazzi. Ok. come avete visto abbiamo comprato un'armatura e vabbè. Vediamo quanto sono arrivato. Facciamo comunque da questo video è tutto e da Dark è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao belli e iscrivetevi. e